Lucerne avvolute Lucerne avvolute sono prodotte a matrice in ambito prevalentemente italico e hanno conosciuto una diffusione in tutto l'impero medio-romano, seguendo le rotte commerciali del Mediterraneo e le vie militari nelle province a nord delle Alpi. Questa classe di lucerne è prodotta a partire dalla fine del I secolo a.C. e investe tutta la prima età imperiale, con una maggiore diffusione nella seconda metà del I secolo d.C. e con un prolungamento della loro realizzazione per buona parte del II secolo d.C. Questo soprattutto in Italia settentrionale, nelle province transalpine, con un progressivo scavenimento tecnico e formale. Ad ogni modo, i principali tipi di lucerne avvolute prodotti dalle efficine centro e sud italiche rappresentano la forma prevalente in tutto l'impero romano, almeno fino all'80 d.C., dove si impongono sui mercati per l'alto livello tecnico e artigianale. Il becco ad angolo ottuso o ogiva distinto dal disco costituisce l'elemento distintivo della classe e risulta fiancheggiato da due volute doppie o semplici. L'originalità della produzione sta nel tentativo di dimostrare l'importanza del disco, la cui raffigurazione si presenta talvolta complessa e di alta qualità. In particolare, questo avvieniva nella prima fase, in linea con il gusto artistico di età augustea. Il tipo 1C esposto in mostra è il più popolare in Italia settentrionale e nelle province transalpine, in particolare in Rezia, Pannonia e Illiria, mentre risulta più sporadico nelle Gallie, nelle province sud-occidentali e nel Mediterraneo orientale. La sua produzione è strettamente connessa alle fabbriche nord-italiche, ma ciò non esclude l'esistenza di atelier anche in area centro-meridionale. Alla fine del secolo scorso, il progredire dagli studi sufficine, singole produzioni e bolli ha portato a una conoscenza più approfondita dei sistemi produttivi. Nel I secolo d.C. il quadro della produzione italica risulta frazionato in officine a conduzione familiare, mentre l'ultimo ventennio del I secolo d.C. si fa sempre più articolata e si assiste all'emergere dei grandi atelier, per lo più centro-italici, che iniziano a firmarsi. Con il II secolo d.C. le lucerne avvolute lasciano progressivamente il passo ad altre forme e contemporaneamente in Italia settentrionale gli atelier locali continuano a produrre il tipo 1C, parallelamente all'emergere di una nuova tipologia di lucerne, quella delle firme Lampen. Grazie per la visione!